In occasione della Festa della Repubblica, il punto Pace Pact Cristi, Pistoia e il gruppo territoriale di Emergency hanno allestito in piazza Gavinana un estratto della mostra Sete di Pace, mostra fotografica itinerante che racconta le missioni umanitarie della caravana di Pace. Per dare attraverso le immagini risalto al contributo dei volontari italiani che assicurano aiuto e sostegno alle vittime della guerra e rappresentano il volto non violento della nostra Repubblica, alternativo a quello delle tradizionali parate militari. Un olivo ha raccolto messaggi di pace dai cittadini che hanno voluto festeggiare la Repubblica italiana senza armi. Tutti i messaggi saranno poi inviati al Presidente della Repubblica. Noi però siamo contrari all'invio di armi e crediamo che soltanto la pace, soltanto la diplomazia possa darci quella vittoria di cui l'Europa ha bisogno. Questa guerra sta portando povertà in molti paesi europei, non solo in Ucraina e in Russia. E quindi i governi devono impegnarsi per un confronto, per trovare una pace che contempli la soddisfazione dei bisogni di sicurezza dell'uno e dell'altro Stato. Abbiamo deciso di utilizzare la giornata della Repubblica, la giornata del 2 giugno, per animare il nostro presidio qui sul Globo, che è qui dal 24 febbraio, proprio per parlare di un'idea di Repubblica disarmata, Repubblica che veramente ripudia la guerra. Abbiamo stampato l'articolo 11 in grandi karate e stiamo esponendo qui una mostra di foto che sono state fatte durante la Carovana della Pace, che si è recata in Ucraina per la Domenica delle Palme, un'iniziativa che si chiama Stop the War Now e che è portata avanti da Pax Christ internazionale e da altre associazioni.